Ministro, una partita dai due volti, una grande rimonta della fermata dopo un primo tempo in difficoltà. Sì, credo che questi ragazzi hanno dimostrato di avere un grande cuore, un grande attaccamento. Non era facile dopo i primi 45 minuti, 2-0, rovesciare completamente la partita, però siamo stati no bravi di più e sono contentissimo per loro. Nel primo tempo difficoltà anche difensive contro l'impatto dell'attacco del Teramo? Abbiamo preso il gol in dieci perché si era fatto male come otto e Ferrante si stava preparando, quindi il primo gol. Secondo, una ripartenza, un po' spinti dalla voglia di recuperare, abbiamo concesso troppo campo e ci hanno punito. Però poi credo che il secondo tempo sia stato incomiabile da parte di tutti. Veramente devo dire grazie ai ragazzi perché sono eccezionali. Ha fatto la differenza il cambio di atteggiamento della squadra o i cambi dettati da lei? Non lo so, questo non lo devo dire io. Io credo che nel secondo tempo ho visto 11 ragazzi più tutta la panchina che ci credevano e quando ci credi lotti fino alla fine. Poi a volte succede anche che capitano partite come queste che secondo me rimangono dentro il cuore di tutti. E' una vittoria che sa di salvezza ma forse ora potete guardare anche un po' più in alto? No, 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 non parliamo di queste cose. E' una vittoria che ci dà tre punti, che ci dà un grande morale, i ragazzi sono felici. Gli do un giorno in più di riposo ma da martedì ricominciamo a pensare al campionato. L'ultima avevate un attacco sterile, numeri alla mano, in un tempo quattro gol. Oggi è andato bene tutto nel secondo tempo quindi siamo contenti, hanno fatto gol gli attaccanti, hanno fatto gol Petrucci. Penso che è una giornata perfetta.